Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Roblox Oggi faremo un hobby, ma anziché essere delle palle Adesso siamo dei cubi Perché ormai sta andando di modo ad essere e fare gli hobby per tutte le forme Quindi la porta anche io Allora, questo gioco è un po' strano Perché questa volta ha anche il negozio Io ne ho solo 300 Va bene Allora, ho 317 perché mi ha fatto fare il tutorial con i miei soldi Ma comunque noi dovevamo fare Ecco, noi abbiamo fatto questo qua Perché era obbligatorio Adesso noi dovevamo fare il lobby Cioè la difficoltà semplice Buongiorno, salve Allora vai, iniziamo, easy Si vede che è semplice Buongiorno, buongiorno, buongiorno Ok, oddio Stavo per cadere i figli Sium Che bello In teoria questo video Uscirà Oddio Stavo dicendo Questo video dovrebbe uscire Sabato Ah no, niente Allora avete già visto il speciale 100 iscritti Comunque grazie a tutti Per aver superato il nostro obiettivo 100 iscritti No, mi sono termati indietro Il nostro obiettivo 100 iscritti Il primo speciale Che, vabbè, tanto lo sapete già Che è stato un'ora di Minecraft Di Matthew Della Della fancraft Spero che vi sia piaciuto Ma comunque Molto carino Oddio Stavo dicendo E quindi Allora, aia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Cioè perché Allora, mentre sta registrando questo video Non è ancora uscito il speciale Quindi non so se Come verrà Però va bene Poi tanto lo dico Perché so che Questo video lo vedete Comunque Allora Gira Girotondo Insomma Alla fase 10 Comunque Per ora Si vede che Stavo dicendo Che era semplice Ma Come sto salendo le scale Salve Buongiorno Salve Parapà Ok Buongiorno Ok Ma Ma Chi se ne frega Della scensore Buongiorno Salve Allora Ok 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 Laser Laser Poi Come sono caduto Non ci ho capito niente Allora Allora Dobbiamo prendere Questa cosa No We 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 Miu 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 Vai 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 E Ah che non ti uccidono Istantaneamente Carina Questa Non si dovrebbe fare così Ma va bene Allora Escape Perché c'è un tasto Ex Ex Ah corri Miu 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 Allora Buongiorno Allora Tac 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 Olè Oddio Mio Dio Mio Dio Fiii Ok Sono ancora A fase semplice Quando finirà la fase Ma non mi sto ammazzando La fase semplice Perché Vuole rendere Un po' più Difficile Oh Io ho paura qua Che il mio cubo Sia un po' troppo Grandino Dobbiamo ammetterlo Ok Poi così 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 Giusto? Sì No Maledizione 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 Oui Schivolò Schivolone Schivolone Oui Oui Ok Salta Salta Fase 26 È ancora facile Too easy allora buongiorno 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 no ti prego ti prego ok salve no aia dove bel lavoro hai battuto il simple start un grande viaggio ti aspetta quindi adesso io ho finito sii e quindi adesso abbiamo sbloccato il secondo hobby ma vediamo se possiamo prenderci qualcosa possiamo prenderci il pirate hat io ho comprato il pirate ecco equipaggia sono un pirata sono un pirata molti vediamo cosa abbiamo tipo che carini leggendario cos'è ok va bene poi sentieri niente da 200 va bene va bene molto carino questo gioco mi piace molto quindi io secondo video posso anche portarvelo perché mi piace molto allora 27 fasi ok fase 1 ha capito si inizia praticamente e quindi sono 27 fasi che adesso capito senza della mappa non è come quella delle palle che tutto di seguito però comunque se non è sempre nello stesso hobby sì anche carino allora vai 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 su mi mi cappello piratino cubo pop 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 ok non no no ok non ti prego madonna il cubo non è come una persona normale il cubo è un cubo quindi è difficile vai scarinate buongiorno allora questo è tutto dritto come vabbè allora cosa devo fare scusate devo fare con no 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 ti prego no il mio capello è da pe... ah ok ah si l'ho preso vai 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 come l'ho salvata come l'ho salvata buongiorno 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 a tutto il giorno buongiorno buongiorno a tutto il mondo io ho provato a fare il salto non devi fare il salto giro ragazzi una cosa da imparare in questa app è che non devi fare il salto giro pink perché buongiorno tizio che sei appena caduto allora sono un piratino ma no no e questo non è cacchio è così no 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 così così guarda che no guarda no eh si sono un pro player cubotto signor cubotto al rapporto questo è super easy se questa è la fase base potete anche mettermelo nel semplice anche nel tutorial cioè sincero anche questo allora non vedo grandi cose come quelle delle balle che già a livello challenging c'era una cosa impossibile sono appena caduta però meglio così no ok così ole 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 scivolone 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 wiii buongiorno 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 ok ok che la devo fare calma calma no perchè mi ha fatto il doppio jump almeno non hai buggato come diciamo quello delle balle che ti fa il doppio jump dopo a caso eh eh si wii oddio ti prego ahia mi son fatto malino il mo cubotto si è rotto vai 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 cos'è un labirinto porca miseria non ho capito dopo vai ciao ah no mi avevo un mio chio ah no non mi avevo un mio chio stavo scherzando mi 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 io lo ammazzo fatto ok ciotoline ciotoline non fanno molto bene vai wii allora buongiorno triangoli molto storti allora quante volte ho detto allora la 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 allora basta scivolone però questa volta l'ho scoperto quindi posso anche cadere cioè non me l'ha dato sei serio? non ci vedo no 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 non ce la devo fare ok voilà andiamo 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 oh calma che cavoli allora facciamo così oh mio dio mio dio che mi ammazzi e voilà finito yey allora vediamo possiamo prenderci una bella fascia possiamo prenderci questa base che come dai si carina e si niente allora devo fare il suo zainetto volti equipaggio sentieri pelle ah no guarda che carino ciao manca allora possiamo noi piratino con faccina con le stelline ci fermiamo così vi ricordo di iscrivervi anche se sono accettate iscrivervi attivare la campanellina così non perdete nessun video e da cubo piratino e faccina molto carina vi dicono di lasciare un bel like ciao